Musica Mi chiamo Ayrton Cozzolino, sono nato a Capoverde Poi ai 12 anni mi sono trasferito in Italia Adesso faccio 6 mesi in Italia e 6 mesi a Capoverde Musica Questa estate abbiamo una scuola di kite, surf e sup Qua in Sardegna, Kia E a Capoverde invece a Sal c'abbiamo un'altra scuola di kite Musica Ho iniziato quando avevo 6 anni Prima facevo surf d'onda Avevo un po' paura del kite perché vedevo questo aquilone qua Mi faceva un po' in pressione Mi padre mi ha spinto a provarlo E lì da quel giorno lì nella laguna di Punta Preta a Sal Lì è partito tutto Musica 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 Cerco di farlo diventare tipo una tavola da skate proprio Fare il flip, c'è l'aquilone che ti aiuta no? Comunque i movimenti dei piedi sono quelli Fare un flip con lo schede è uguale Ma adesso sto facendo l'atleta Il mio futuro è sempre allenarmi di più Cercare di avere risultati migliori Di stare sempre ai primi Quest'anno devo difendere il mio titolo mondiale Che l'anno scorso ho vinto Quando sarò un po' più grande Pensarò anche a gestire una scuola di surf che abbiamo adesso All'inizio scappavo da scuola per andare a surfare I miei amici quando c'era l'onda Venivano lì alla classe dentro la scuola Facevano Oh c'è l'onda Io aspettavo che la professoressa usciva E me scappavo Andavo a surfare La passione che avevo per il surf era troppo forte Musica Musica Il mare per me vuol dire tutto Vuol dire viverci Divertirsi Surfare Stare insieme alla natura Vuol dire tutto per me Musica 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 Musica